Prima di iniziare col video ragazzi volevo chiedervi scusa per questi due giorni di inattività ma purtroppo YouTube ha deciso di eliminarmi il video di ieri per copyright e quindi ve lo ricarico quest'oggi. In secondo luogo volevo scusarmi anche per il fatto che anche in questo episodio non ci sarà l'audio di gioco, io veramente non so più cosa fare, spero davvero di risolverlo per il prossimo episodio perché altrimenti potrei sclerare male. Detto ciò godetevi il video, lasciate un bel mi piace e mi raccomando commentate, insomma fate tutto quello che dovete fare. Buona visione! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo venticinquesimo episodio della Crazy Rock Pokemon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio siamo giunti sulla nave del Team Plasma dopo però aver perso Costanzo. Oggi andremo a scoprire quali sono le reali intenzioni del Team Plasma, un Team Plasma che è tornato dopo due anni per creare ancora scompiglio nella regione di Unima. Prima di iniziare un paio di cose, innanzitutto mi scuso se nello scorso episodio non c'era l'audio del gioco, in teoria il problema dovrebbe essersi risolto. Poi, come avete visto dal grinding, i due Pokemon che avevamo sia tranquilli e baltoi si sono rispettivamente evoluti in un Karablast e in un Gigalit. Per quanto riguarda Gigalit vedete pure il soprannome in sidebar che è bello figo perché signori miei è nero e non paga affito. Quindi, niente, lui è entrato in squadra mentre Karablast no per evidenti motivi di non si evolve e oggi signori miei proseguiamo. Quindi, con bello figo davanti a tutti, siamo pronti per andare a sconfiggere il Team Plasma. Allora, vi anticipo una cosa, avrei voluto farvi vedere le evoluzioni in parte, cioè praticamente dare il condivido di esperienza ai Pokemon e farli evolvere durante l'episodio. Ma, signori miei, questa è la seconda volta che registro questo video perché dovete sapere che mentre stavo registrando sempre questo episodio ho tirato una pedata alla presa della corrente che ha creato praticamente il blackout dell'intera casa. Non so per quale motivo, so solo che questa è la seconda volta che sto registrando questo episodio e che quindi, piuttosto diciamo che feicare delle reazioni in live, ho preferito farvele vedere all'inizio e essere diciamo più corretto anche nei vostri confronti. Detto ciò, io questi allenatori li avevo già battuti, non mi ricordavo nemmeno che avessero un giraci e sto bestemmiando dentro di me e... Tra l'altro, non ricordo neanche le statistiche di bello figo, dobbiamo chiamarlo giustamente perché altrimenti si incazza, poi non paga affitto, poi lo chiamano alla rete 4 e... No, dicevo, adesso vi faccio vedere anche le statistiche. Se non erro dovrebbe essere forte in attacco speciale e in difesa fisica, ma avere le altre statistiche diciamo abbastanza cancerogene, ecco, per utilizzare un termine molto bello. Ehm, questo gira... Cioè, praticamente, ok, ha fatto tutto Gallade, perfetto, chiaro. Bisharp, ok, Bisharp mi ricordo che è di tipo... Buio? Sì, dovrebbe essere buio. No? E... Sì, dovrebbe essere buio. Ok, è morto Gallade che non è nostro, per fortuna. Sì, vabbè, poi chi altro ha Rochet? Cioè, a proposito di Rochet, signori miei, ho dato il soprannome a... Spinda, l'ho chiamato proprio col nome del nostro mitico Eroe. Eroe, signori miei, vi spiego anche da dove deriva il soprannome. Beh, è, fra virgolette, dedicato a Rocket25, che è sul mio canale. Penso che conosciate un po' tutto perché ci ho fatto più video con lui che da solo. E... E lui in una serie, in una Nuzlocke, andò ad affrontare una palestra con Spinda. Cioè, solo Spinda, nessun altro Pokémon. E penso che puntualmente perse, confermerà lui nei commenti sicuramente perché so che segue questa serie. Nel caso lo vado a prendere a casa sua. Allora, qua abbiamo uno strumento che è una bellissima baccamango, molto utile nel caso vogliate buttare qualcosa dalla finestra, sapete cosa usare. Ora, bisogna scendere di qua, signori miei. Eccoci qua. Ancora voi. Ok, questo qua dovrebbe essere una recluta fake. Ehi, non lasciarti ingannare dalle apparenze. Io sono dalla vostra parte. Indosso ancora la loro divisa, ma non faccio più parte del Team Plasma. Ora faccio la spia in caso succeda qualcosa di imprevisto. Capisco. Non deve essere affatto facile tenere d'occhio i propri ex compagni. Senti, per caso sai nulla di un purloan rubato da Lisopoli? No, mi dispiace, non ne so nulla. Me lo immaginavo. Non c'è nulla da aspettarsi da chi ha cercato di conquistare il mondo. Adesso tipo la recluta si prende un po' male, sì infatti. Scusami però, sappi che i miei sentimenti erano sinceri. Io volevo davvero salvare i Pokémon. Esatto, signori miei. Perché il Team Plasma, in realtà, i membri erano veramente mossi da dei sentimenti puri. Mentre, anche N tra l'altro. Mentre i Sette Saggi e Gekis. Ma forse anche solo Gekis, penso. Volevano semplicemente conquistare il mondo. Cioè, non gliene fregava assolutamente niente di liberare i Pokémon. Volevano avere i Pokémon per sé. In modo tale da poter così governare il mondo. Senza, diciamo, intromissioni particolari. Eh, no. Muori. Gentilmente. Questa paralisi qua mi ha fatto veramente incazzare, caro mio Salazzol di Quarta Gen. Allora, perfetto. Curiamolo e vi faccio vedere. Finalmente mi sono ricordato il tipo. Il tipo lo starete già capendo dalla sidebar. E dovrebbe essere... Oddio, sapete che non me lo ricordo mai. Lotta normale, quindi lotta in pratica. Eh, sì, esatto. Difesa speciale, difesa fisica, attacco speciale... Eh... Ho detto difesa fisica, vero? Difesa ottima. Attacco speciale buono. E le altre statistiche letteralmente cancerogene. Quindi stiamo attenti a questo Pokémon che, diciamo, ha dei lati positivi. Ma anche dei lati, diciamo, molto tumorali, ecco. Allora, abbiamo sto spill. Tra l'altro, signori miei, non vorrei far durare questo episodio tantissimo. Ma la nave mi richiederà sicuramente un fottio di tempo. Di conseguenza, penso che nel caso la taglierò in due parti. Anche se sapete che è una cosa che non mi piace fare. Non penso tu abbia fatto crescita, però, cioè, non crescerai mai più perché sei molto. E quindi, nulla da fare. Ora, qua ci sono i teletrasporti. La domanda vera è... Da dove dovrò andare? Ma vediamo un po' di capirci qualcosa. Strumento e coccio blu. L'utilità, proprio. Ah, buongiorno. I lati di questa stanza non sono ancora stati usati. Oh, figo, davvero. Vabbè, già che ci siamo, signori miei. Direi di utilizzarli. Così ci ricarichiamo anche i pppi delle mosse. Ok, voi mi sfidate, sì. Me l'aspettavo. Sono tantissimi le reclute qua dentro. E tra l'altro, cioè, dopo questo puzzle dovrebbe esserci un altro di cui ho una vaga memoria. Perché vidi una serie tempo fa. Cioè, è una cosa allucinante. Aerocolpo. Semishotti mi incazzo. Ok, perfetto. Tempe stretta. Però, dai, non se la sta cavando così male alla fine, bello figo, signori miei. Cioè, gli manca solo una bella dub. E poi ce le abbiamo tutte. Tra l'altro, sì, nel caso che lo stai chiedendo, non so fare la dub. Ok, livello 53 ritorna. Hitmore, uno dei Pokémon considerati più cancro di questa generazione. Che effettivamente è degno del suo nome. Allora, segno raggio, provo, non lo so, così dal nulla. Ok, gli faccio abbastanza, ero colpo. Cioè, allora... Io, cioè, se perdo un altro Pokémon per un Critical, quitto la serie. La quitto, lo giuro. Cioè, è proprio della serie che prendo il PC e lo lancio dalla finestra. Perché, cioè, non è che posso sempre vivere nel terrore di... Ciao, buongiorno anche a lei. Di subire un Critical. Cioè, capitemi, no? Allora, vediamo un po' tu chi hai. Drapion, perfetto. Drapion, invece, che è un grandissimo Pokémon, signori miei. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io, sinceramente, lo trovo uno dei migliori della sua generazione. Ossia, la quarta. Incendio. Ok, allora, Bello Figo ha decisamente dei problemi logistici. Ok, non tutti i letti, evidentemente. Sono atti alla cura. Però, dai, è possibile che in sta stanza non ci sia neanche un teletrasporto? Eh, infatti, sembrava strano. Ok, uno è andato. Perfetto. No, allora, proseguiamo di qua. Prima cosa. Seconda cosa, curiamoci il tipo a sto punto. Perché, sennò, ci muore. Tra l'altro, farò combattere anche Rochety. Resce nel Poco Legendario che ha fondato la regione di... Eh, bene, poi. Ah, ok, me li stai registrando nel Poco. Questo qua non l'ho proprio incontrata. Qua, vediamo se... No, nulla da fare. Niente. Aspetta. Questa zona qua l'ho già vista. Allora, calma. Qui. Ok, perfetto. Ne ho trovato un altro totalmente a muzzo. Ah, ok, infatti. Mi sembrava che lei non l'avessi sfidata. Stavo aspettando che si girasse. Dai, su, vediamo un po' cosa sei in grado di fare. Il Jumpluff. Mi viene accaduto una goccia di sudore dalla shell. Dio mio, signori miei, i brividi. Eh, fulmini in denti. Perfetto, non ti ho fatto nulla. Dio mio, Jumpluff, che ricordi. Muori. Ti prego. Signori miei, con i Jumpluff, io nelle Nuzlocke, c'ho dei rapporti veramente allucinanti. Oh, mi rimarrà sempre in mente Wonderlock di Pokémon Ypsilon. La prima serie che feci. Avevo forse 20 iscritti. Eh, cavo palestra di tipo erba di Ypsilon, no? E aveva Jumpluff. Io mando Eracross. Faccio... Bella, dai, Jumpluff. Che problema sarà mai? Acrobazia mi ha shottato il Pokémon. Oh, 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 che è? Intrusi sulla nave. Ottimo. Con largo anticipo, mi dicono, eh? Allora, calma. Di qua io non sono ancora andato, vero? Eh no, eh no che non c'ero andato. Perfetto, ne manca solo uno che paradossalmente... Ah, non ti avevo già sfidato, ok. Paradossalmente, signori miei, quello che manca è il primo. Quindi, forse sarebbe anche il più facile da trovare, in teoria. Però, signori miei, io sono Creepy Stories. Se non mi complico la vita, non son felice. Pestone. Fulmin Denti. Toxic Rock, ok, dai. Un altro Fulmin Denti. Dovresti morire. Sgancia Pesi. Adesso ti sgancia una dentata in faccia. Che proprio... Cioè, vai a incontrare il Signor Gesù. Luxio. Allora, Luxio. Dai, che siamo in tema natalizio. Luci, Luxio. Sto degenerando, muori. Ok, l'ho conf... A parte che, infatti, cosa mi... Cosa mi stupisco che lo confondo, che confonde sempre. Signori miei, tra l'altro, allora, visto che le cuffie continuano a cadermi, il problema audio dello scorso episodio era dato proprio da un problema delle cuffie. Nel senso che, come vedete, le ho cambiate. E, però, cambiandole, non si sa perché, il programma ha deciso di non recepire il fatto che l'audio fosse nelle cuffie. E ha fatto come se non esistesse. E, nulla, queste cuffie qua mi sono state regalate per il compleanno. E, questo era un critica, il brutto stronzo. E, nulla, sono ottime, secondo me. Rispetto alle altre, che ogni tanto avevo dei problemi, nel senso che saltava l'audio. E, nulla, mi piacciono abbastanza. Dovrebbero essere della Tiger, se non erro. E, nulla, appunto, non mi dispiacciono per nulla. Quindi, ciao. Quindi, no, dicevo, se vi interessa prenderle, ve le consiglio. Prima che qualcuno lo dica, no, non mi hanno sponsorizzato, è solo una cosa che volevo far notare. Segnoraggio, no, perché ultimamente, cioè, ogni volta che uno vuole dare un consiglio di un prodotto a qualcuno, deve essere sempre sponsorizzato. E, boh, mi sembra stupida come cosa. Sia, da una parte, non parlare di prodotti, a meno che non ti diano soldi. Sia, dall'altra, ogni volta che qualcuno parla di un prodotto, direi, l'hai fatto per soldi. Uno, uno non può più parlare di quello che gli piace, in alcuni casi, perché altrimenti gli danno del venduto. Vabbè, tutto ciò per dire che, nulla, vi consiglio questo paio di cuffie, se non volete spendere troppo. Allora, ira di drago, bona, lampent, dai, forza, vediamo un po' cosa sei in grado di fare tu. Palla clima, giù, no, però quasi, sabbio tombano. Oddio, ancora attaccalite, che nervoso, erba patto di tipo veleno, ciao, è stato bello. Dai che so che quasi a livello 54 io voglio trovare sto maledettissimo posto, cioè, non saprei neanche come definirlo. Ho teletrasporto, ok, qualcosa mi dice che quello lì in alto a sinistra è protetto pure dai guardiani delle galassie, proprio. Allora, palla clima, cioè, in realtà, ho miscliccato, ok, arken, segno raggio. L'ho preso, cioè, proprio, minchia raga, precisione di questo Soak, proprio quella di un cieco morto. Dai, forza, ti prego. Buongiorno, buongiorno, sì, perfetto, non compro nulla, grazie. Eeeh, Among Us, madonna che nervoso questo Pokémon. Ditemi se anche voi avete sofferto quando, tipo, all'inizio di Pokémon nero, le prime volte, trovate una Pokéball, eravate felici e poi era sto stronzo in realtà. Erba patto, tra l'altro, spiegami che difese hai per reggere così tanto, palla clima e... La mia esistenza è maledettamente effimera e priva di un significato logico. Eh... Ok, qua sto riscontrando un problema, però. Cynthia, vai tu e reggi. Sto pensando che potrei aver fatto una cagata. Reggi, reggi, ok, perfetto, no. Caduta Massi. Super efficace, ti prego. Porca di quella troia. Abbiamo un problema. Fango sberla, allora, aspettate, curiamoci Cynthia. Siamo a 13 minuti nel frattempo. Eh, 14 con tutte le intro del caso. Palla ombra, forse addirittura 15. Non lo so, vabbè, non è un problema nostro in questo momento. Il problema nostro in questo momento si chiama Mongoose. Ecco, se questo qua continua a fare Fango sberla, attacco... Non lo so. Attacco quando vince il Crotone. Dai! Oh! Beh, lo sapevo. Sapete che come ho attaccato e mi son detto questo non lo butta giù. Uh, che culo. Venta argento. Magari ti boosti anche, no, non si è mai. Livello 54 per Soak, Torkoal. Eh, buono, so, provo Omega K. A parte il fatto che forse è il caso che tolgo Cynthia che non attacca... Eh, e quando attacca non fa nulla. Ottimo. Mandiamo Titanic, sperando che non mi faccia una mossa che me lo butti giù. Energy Sfera, lo reggi, vero? Ok, abbastanza, sì. Surf. Se sei di tipo metallo mi incazzo. Perché io parlo sempre? Sempre. Dovrei imparare a starmene fottutamente zitto. Segno raggio. Occhio. Occhio. Ok. Se non è super efficace... Ok. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Oh, le. Perfetto. Ok. Adesso se scopro che non è questo il teletrasporto... Sclero. Ok, perfetto. Tutte le barriere sono state rimosse, ora è possibile proseguire. Ottimo così. Possiamo uscire. Non so neanche se ho battuto tutti gli allenatori, sinceramente. Prima di proseguire comunque mi curo tutti i Pokémon. Non mi interessa se spreco pozioni, non voglio assolutamente rischiare. Dato che comunque ho 5 Pokémon in squadra per ora. Perché, come vi dicevo, Carra Blast non si evolve, essendo che si evolve solo tramite scambio. E, boh, non si... Ho provato a farlo salire di un altro livello fuori parte e non ha intenzione di evolversi. E... Mentre gli altri due non mi convincono. Quindi aspetto un'altra cattura. Ok. Violante. Mettiamo davanti Rocet. Esordio di fiamma per lui. Per avercela fatta fin qui, devi essere proprio in gamba come allenatore. Visto che hai fatto tutta questa strada, ti mostrerò qualcosa. Ecco a te. Kyurem. Il leggendario. Il leggendario Pokémon di tipo ghiaccio. Che si sta lamentando tantissimo della sua esistenza. I missili di ghiaccio che abbiamo sparato su Bureduopoli sono stati creati usando la forza di Kyurem e la tecnologia del Team Plasma. Bene. Potresti diventare un elemento di disturbo per il Team Plasma. Perciò, ti elimineremo subito. Oh, è arrivato anche Rocet. Non ve la farò passare liscia. Grazie per aver rimosso le barriere. È stato di grande aiuto. Vi concederemo entrambi per le feste. Ma è una battaglia in doppio o in singolo? Mi sei in singolo, sapete? No, ok, è in doppio. Ok. Pansier e Wormadam, perfetto. Allora, non dovrebbero essere delle cime. Rocet manda in campo Gallade e io mando in campo Rocet. Ha tutto molto senso in questa serie. Allora, Funesto 20 direi di... Pansier mi ricordo il tipo. Sei di tipo... Elettro tu, vero? Non lo so. Penso che non sia più rilevante, sapete? Quale stampo e non gli ho fatto nulla. Perfetto. Con Baskin. Allora, io proverei a fare un funesto vento, sperando anche di boostarmi, in un certo senso. Perché, boostandomi, no, nulla da fare. Rivincita. Sto Gallade qua le sta prendendo di santa ragione da chiunque. Rocet usa iperpozione. Perfetto. Allora, giga impatto. Aia. Aia! È stato... È stato veramente bruttissimo. Ok. Le sta prendendo di santa ragione, Rocet. Ora, calma. Proviamo un fuoco pugno di là. No, non rubarmelo così. Ok. Warmadam perlomeno è andato giù. Ora, quel con Baskin lì... Non so se lo butto giù con un fuoco pugno. Eh, no. Verde bufera. Ti prego, attacca Gallade. Attacca... Ok. 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 Allora, Doduo. Perfetto. Allora, direi di curarci Rocet. Per sicurezza. Perché ha pochi PS e poi è Debole in generale. Cioè, parliamoci chiaro. Ok. Doduo va giù. Verde bufera. Vediamo se... Ok. Verde bufera è speciale. Perfetto. Tojikis. Presagio. Allora, vediamo un po' che fare. Provo un funesto vento su Tojikis. Ok. È super efficace. Con Leo Morso va giù addirittura. Ok. Adesso però il funesto vento su con Baskin non è che faccia molto, eh. Se non sbaglio. Eh, infatti. Però, però si boosta Rocet, signori miei. Si boosta Rocet. Lo sto chiamando più o meno da inizio episodio. Funesto vento di nuovo. Qua avrei potuto giocarmela meglio. Ma con Baskin va giù. Ok. Premettendo che ha fatto tutto Gallade. Ah, ma c'è ancora... Ma Adkip, davvero? C'è i fetish per gli starter di terza, tu. Funesto vento, vediamo di andare giù quasi. E con Leo Morso mette a posto la pratica. Ottimo. Sconfitti, Violante e la sua recluta. Deve ancora... Deve ancora nascere il tirapied... Sì, deve ancora nascere il tirapiedi del Team Plasma in grado di battermi. Quel Pokémon... È un pezzo di ghiaccio. È stato lui ad attaccare Boreduopoli? Sei piuttosto sagace. Ma sei tutto questo sale in zucca. Perché ti metti in pericolo entrando nella nostra base? È presto detto. Farei di tutto per riprendere il Pokémon di mia sorella. Sei stato tu a rubare il suo Purloan ad Alisiopoli cinque anni fa, vero? Se è un Purloan, l'hanno rubato per usarlo. Ma non riesci proprio a capire. Di Purloan ce ne sono tanti. Perché ne fai un problema così grande? Quel Purloan è unico. Il nonno, il nostro nonno dorato, lo aveva catturato per mia sorella. Che noia. Questi ricordi così importanti per te in realtà non contano nulla per gli altri. Guarda piuttosto la magnificenza di questa nave. L'intera nave è un dispositivo che permette di usare la potenza del Pokémon leggendario, Q-RAM. Questa volta riusciremo a prendere il controllo di Unima. A quanto pare Q-RAM è qualcosa che non ho letto. Faremo buon uso del cuneo DNA nel frattempo. Il trio scuro. Occupatevi di loro. Cioè, no. Trio scuro, occupatevi di loro. Chiudete il becco. Siete voi ad aver perso. Ah. Mi cacciate fuori così di cattiveria? Davvero? Oddio, sta scena non la ricordavo. La nave che si alza in volo. E presumibilmente si dirige, signori miei, verso la fossa gigante. Ora, purtroppo, penso che non si veda benissimo per come lo metto in sidebar, perché tecnicamente questo dovrebbe essere il sotto dello schermo di Lai. Quindi, per come ho impostato io gli schermi, non si vedrà un gran che, purtroppo. Ma, dettagli, purtroppo io non posso farci un gran che, in realtà. Team Plasma, non vi lasceremo scappare. Piuttosto, che c'è da quella parte? Eccolo qua, Comor. Un po' in ritardo, però ce l'abbiamo. Scusate se arrivo solo adesso. Eh, buonanotte. Esatto, si sono diretti verso la fossa gigante. Proprio così. Ok, quel Pokémon si chiama Kyurem e va bene, ci siamo. Forse, eh, quel... Ok, intanto voglio esplorare qua. Dicevo, forse quel... Quel... Come si chiama? Non vi viene per ora. Ho un figlio, no. Quel puzzle che c'era prima. Cioè, di cui vi parlavo prima, scusatemi. Forse lo vedremo dopo. Perché io mi ricordo che c'era un puzzle altrettanto stronzo, però... Forse non adesso. Comunque, allora, attivo un repellente se ce l'ho. Ehm, vorrei vedere se in questa zona ci fosse qualcosa di particolare, anche se... A occhio e cruce non mi sembra. No, direi di no. E quindi, signori miei, direi di volare velocemente a Grecaropoli. Ed interromper qua il nostro episodio. Tanto che nel prossimo andremo verso la fossa gigante. E molto probabilmente sgomineremo una volta per tutta... Per tutte? L'italiano, che non è un optional. Una volta per tutte, o almeno si spera, dicevo. L'organizzazione malvagia di turno, ossia il Team Plasma. In particolare, assisteremo probabilmente a una delle scene migliori dell'intero gioco Pokémon. Dell'intera saga Pokémon, oserei dire. Comunque, signori miei, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno e passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.